C'è un gruppo di persone potenti che nessuno conosce. L'1% più ricco dell'1% più ricco del mondo che gioca a fare Dio. Ma credo che mi stiano seguendo. Di giorno sono un ingegnere di cyber security. Sono un hacker giustiziere solo di notte. Metterai in moto la più grande rivoluzione che il mondo abbia mai visto. Di cosa stai parlando? Il più grande evento di redistribuzione di ricchezza della storia. Salve il corpo!